Ciao a tutti amici, siamo qua oggi a Mezzomonte, con il grande Fabrizio. Siamo giunti qua alla fontanella, adesso facciamo un po' di merenda. Umidaccio oggi! Siamo qua pronti con Fabrizio, andiamo a fare le ungiarezze. E' da un botto che non passo di qua. Oggi bello scivoloso. Qua a destra. Speriamo non ci siano alberi caduti. Ecco, come non detto. Deviazione. Wow, figata! Interessante! Occhio qua! Cavoli, tutt'altro feeling con le gomme nuove e con le ruote nuove. Vabbè, è un po' umido comunque. Ci sei? Destra! Vabbè, è un po' umido. Occhio! Occhio! Mamma mia, qua non si vede nulla. Occhio! bello viscido qui eccoci ritornati in paese a mezzo monte adesso andremo a fare il troi nel torrente mena che si prende due tornanti qua sotto chiamato anche troi del tobo mi pare comunque adesso vi faccio vedere eccoci qua penultimo tornante della strada che porta su a mezzo monte noi scendiamo per di qua adesso vediamo un po com'è qua albero caduto anche qui malo acqua hanno pulito esatto occhio qua piano prima non abbiamo visto c'era un bivio destra a sinistra noi siamo andati a destra praticamente si costeggia il torrente mena e si arriva direttamente sul capitello lì il monumento all'inizio della strada che sale a mezzo monte noi adesso siamo tornati indietro abbiamo scavacato questa piccola forra diciamo questa piccola cavità e siamo andati verso sinistra che se non sbaglio qua dovremmo essere sul troi del mago quello che passa sopra il gorgazzo andiamo a vedere se effettivamente questo ci siamo carino eccolo qua sentiero m1 m2 qua inizia a farsi buio ragazzi qua inizia a farsi buio ragazzi a farsi buio ragazzi a chiuscire su un po' Sì, giusti. Troi del mago è questo. Bello. Qua in pratica passiamo sopra il gorgazzo. Oh, che figata. Occhio. Sì, sì, ma siamo già a buon punto. Mamma mia, figata. C'è qualche pezzo da rilanciare, tipo questo. Però si supera agevolmente. Occhio. No. Ciao, vecchio. Ehi, la. Come siamo? Ciao. 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 Com'è? Ciao. 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 No, che mi sono fermato a parlare con quelli là che conoscevo. Sì, sempre giugo, ragazzo. Ciao. 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 Guarda un po' dove siamo usciti. Siamo arrivati al Gorgazzo. bici a piedi qua mi raccomando mamma mia pieno pieno in pratica il sentiero che abbiamo fatto passava qua sopra e siamo scesi qua dietro fango il giusto dai dopo aver visitato anche il gorgazzo adesso torniamo su verso dardago abbiamo optato per fare il rio brosa oh bambin va piano mi vuol far sudare il ragazzo qua guarda qua che scenario ecco il campanile di dardag ecco oh Grazie a tutti